buonasera a tutti e benvenuti a questo approfondimento oggi abbiamo con noi francesco maringio ciao francesco ciao ciao clara ciao a tutti ti ringrazio per aver accettato l'invito ricordo che francesco è presidente dell'associazione italo cinese di promozione per la via della seta ed è proprio di questo che parleremo della della cina della postura sempre più minacciosa che la nato sta assumendo nei confronti della cina e di questa spada di damofle che sembra pendere su un'altra parte di mondo sull'asia pacifico perché a quanto pare si sta sviluppando una dinamica molto simile a quella che è sorta nel 2014 in europa dopo dopo l'euro maidan avevamo visto un tuo video a questo proposito diffuso davvero illuminante molto molto sintetico molto divulgativo ti ringrazio per averlo averlo divulgato mi senti ti sento solo l'immagine che è bloccata a ok ok e niente quindi francesco in in quest'ultimo anno noi abbiamo assistito a ad un'accelerazione senza precedenti con l'ingresso della russia nel conflitto nel conflitto ucraino della delle dinamiche internazionali si stanno venendo a creare delle vere e proprie zolle geopolitiche verso cosa sta succedendo e questo nuovo scacchiere che si sta delineando che ruolo ha alla cina rispetto alla alla russia che è un suo partner e rispetto alla alla nato che diventa sempre più globale sì e allora ovviamente è difficile rispondere come dire bene a queste domande perché sono molto complesse e riguardano ovviamente delle tendenze che sono sotto i nostri occhi volendo un po' semplificare però le semplificazioni a volte aiutano a cogliere il senso di quello che sta avvenendo in qualche modo il 2022 ha marcato in maniera profonda un processo come dire di fine della centralità dell'occidente e soprattutto fine della centralità del potere dell'occidente nelle relazioni internazionali il che non significa e sarebbe un errore catastrofico pensare che l'occidente è tutto in declino che gli stati uniti sono sull'orlo della bancarotta che un nuovo mondo alternativo è già costituito ragionare in questo modo sarebbe sbagliato e non serve assolutamente a nulla però non si può non notare come diciamo le accelerazioni che ci sono state nel corso del 2021 segnano profondamente questo questo aspetto anche solo voi nel nel tuo canale ne parlate molto del conflitto appunto della guerra ucraina e tutte le conseguenze anche solo come il mondo e il mondo non occidentale ha visto a letto e si è approcciato a quello che stava succedendo ci dà assolutamente l'idea e la percezione che non c'è più un non solo un unipolarismo statunitense ma insomma viene fortemente messa in discussione una visione unilaterale propugnata dall'occidente quindi questa è secondo me la principale tendenza di questa di questa fase una sorta di deglobalizzazione dicono alcuni e così come dal lato diciamo non occidentale questo aspetto segna un maggior riequilibrio nel mondo nelle relazioni internazionali così anche in occidente c'è una come dire una frazione delle classi dirigenti che vorrebbe spingere ancora di più questo processo fino alle estreme conseguenze e quando sui giornali soprattutto per quanto riguarda la questione cinese sentiamo parlare di processi di decoupling di ritorno di separazione delle economie di ritorno diciamo così della di pezzi dell'industria fuori dalla dalla diciamo dal territorio cinese e la domanda che dobbiamo farci è perché un pezzo delle classi dirigenti occidentali vogliono questo cioè accelerano addirittura questo processo di deglobalizzazione perché ovviamente questa fase di globalizzazione nella quale però erano emersi dei poli che bilanciavano il potere e del diciamo dei paesi occidentali e degli stati uniti soprattutto e quindi democratizzavano in qualche modo le relazioni internazionali non sono più viste di buon occhio dai dai falchi dell'occidente che invece vorrebbero tagliare tutte le radici e tutti i legami anche commerciali economici esattamente come hanno fatto con la russia è un modello come dire che abbiamo sotto sotto i nostri occhi perché questo rende più facile e come dire sentirsi poi in guerra e o perlomeno diciamo così aumentare il livello di ostilità con quei paesi con cui oramai gli scambi economici, commerciali e a maggior ragione istituzionali, culturali eccetera sono ridotti all'omicino per fortuna questa frazione non è diciamo ad oggi vincente e preponderante però è una tendenza che in quest'anno si è rafforzata sì abbiamo anche visto che insomma nell'ultima dichiarazione congiunta tra Nato e Unione Europea sono stati rinnovati questa comunanza di valori non sappiamo quali sia questi valori comuni di cui parlano e in questa dichiarazione congiunta tra le altre cose è stata definita nuovamente la Cina come una sfida sistemica dell'intero occidente quindi dell'Unione Europea e della Nato è una cosa del tutto nuova perché insomma noi sappiamo che la Nato è l'organizzazione del nord atlantico quindi dovrebbe essere circoscritta ad un emisfero e ad una precisa area geografica non si capisce come possa arrivare all'Asia Pacifico però intanto è diventata una Nato globale c'è stato anche l'importante vertice di Madrid che ha rivoluzionato con il suo strategic concept quali sono state le tappe che quest'anno hanno rapidamente portato a questa nuova postura della Nato nei confronti della Cina? Ovviamente sono delle decisioni che partono da lontano e ovviamente la Nato è un'organizzazione che comprende diversi stati però poi sostanzialmente è a guida unica dal punto di vista della proiezione strategica da parte degli Stati Uniti e gli Stati Uniti da tempo hanno messo sul piatto la loro strategia e la loro idea cioè quella di identificare la Cina come nemico durante l'epoca Obama che ovviamente ha vinto il premio Nobel per la pace però proprio in quell'epoca ha preso come dire consistenza il progetto del Pivot to Asia di cui appunto la segretaria di Stato Hillary Clinton è stata l'espressione massima e quindi quando tu sostanzialmente ridislochi le tue forze militari e circondi un paese dal punto di vista militare in senso vero ovviamente in acqua internazionali nelle basi americane ma sostanzialmente c'è stata una ridislocazione di forze che ha accerchiato la Cina, ci sono sottomarini, ci sono come dire truppe contingenti molto grossi quando tu fai questo stai sostanzialmente dicendo che indichi qual è il tuo nemico quindi è una cosa che viene da lontano, non è diciamo recente ma quest'anno ha avuto un'accelerazione perché proprio la guerra ucraina ha dato un'accelerazione formidabile a queste tendenze da un lato questo, cioè quello di cominciare a indicare la Cina come nemico sistemico e dall'altro lato ancora di più, ma questo lo conoscevamo da tempo anche diciamo così una sorta di simbiosi inscendibile tra l'Unione Europea e la Nato anche questo c'era da tempo, cioè tutto l'allargamento ai paesi dell'Europa dell'Est è avvenuto con un doppio passaggio, questi paesi prima sono entrati nella Nato una volta diventati membri della Nato sono diventati membri dell'Unione Europea l'Unione Europea nei suoi trattati ha addirittura detto che appunto in caso di guerra, di conflitti così il riferimento è la Nato, quindi c'è oramai una diciamo così un filo inestricabile tra le due organizzazioni e si arriva come dicevi bene tu ai due momenti cioè prima il vertice in Spagna dove si è delineato il concetto strategico anche l'indicativo, cioè la Nato che nel precedente concetto strategico circa dieci anni prima, quello vertice di Lisbona, indicava la Russia come partner e dice che in questo caso che invece la Russia è il nemico quindi proprio con questi termini e poi dice che la Cina è una sfida sistemica e diciamo non contenti di quel documento si è creato il doppio livello del terzo comunicato congiunto tra Nato ed Unione Europea dove sostanzialmente si cerca di inglobale quei paesi che sono in Europa nell'Unione Europea ma non ancora nella Nato dentro diciamo questa grande famiglia e dopo diciamo l'avvio della guerra ucraina e in qualche modo non la risposta ma il modo in cui l'Occidente ha gestito sul piano diplomatico e politico tutta quella vicenda ha dato ancora di più carburante alla strategia della Nato globale quindi come dicevi tu una proiezione che non ha senso fino al mar cinese il fatto che si siano svolte in Europa delle diciamo così riunioni Nato dei vertici Nato a cui hanno partecipato paesi assolutamente non membri della Nato e neanche del continente del Nord Atlantico come il Giappone, l'Australia, Nuova Zelanda la Corea del Sud eccetera e quindi l'idea di una costituzione di una Nato globale anche in questo caso in realtà non una cosa nuovissima questo termine Nato asiatica ne aveva parlato Mike Pompeo quindi durante l'amministrazione Trump diciamo hanno utilizzato l'argomento del conflitto ucraino per girare le carte di un progetto che era già stato in qualche modo apparecchiato da tempo ma esattamente cosa vuol dire sfida sistemica per la Nato perché è un concetto che si capisce a livello intuitivo però avrà una stessa significazione da un punto di vista militare economico, commerciale, diplomatico immagino sì diciamo dal punto di vista militare avrebbe poco senso perché appunto diciamo la Cina non ha nessun tipo come dire non esistono contingenti cinesi a ridosso di paesi Nato non esistono sistemi d'arma cinesi a ridosso di paesi Nato anche perché banalmente e semplicemente a parte l'isola, a parte diciamo la base di Djibouti dove però è un caso particolare legato alla pirateria c'è pure una base italiana lì insomma è una condizione completamente diversa non ci sono basi cinesi all'estero in realtà la sfida sistemica si capisce di più quando si pensa invece alla campagna politica che viene fatta quando si dice che sostanzialmente questa fase del mondo è una fase caratterizzata da una sfida appunto tra due sistemi da un lato le democrazie belle, bionde, alte e simpatiche e dall'altro lato invece le autocrazie brutte e basse e vabbè al di là delle mie battute viene raffigurato in questo modo appunto una competizione tra due sistemi che vengono appunto definiti come non concilianti di come dire impossibile dialogo beh oltre a essere insomma abbastanza ridicolo quello di raffigurare la sfida che oggi attraversa il mondo con questa categoria e poi dovremmo anche porci seriamente un'analisi una riflessione sul grado e il livello della democrazia qui in occidente con tutto quello che sta succedendo in realtà molto sinceramente il punto poi di ricaduta di tutto questo è che di fronte alla crescita da un lato della Cina ma anche di un cambiamento complessivo dei rapporti di forza del mondo c'è chi diciamo così ha gestito e ha dato gli indirizzi strategici negli ultimi decenni e ha tratto profitto, giovamento, benessere da tutto questo che cerca di resistere a un riequilibrio dei rapporti di forza nel mondo i cinesi molto spesso dicono di costruire il vero multilateralismo aggiungono l'aggettivo vero perché? Perché in qualche modo un mondo multipolare c'è già è anche una condizione multilaterale diciamo così c'è già ma le regole internazionali non sono ancora quelle di un mondo multipolare c'è la finanza che è completamente dominata e gestita dalla finanza americana ci sono squilibri appunto dal punto di vista militare cioè non c'è un vero equilibrio democratico tra paesi diversi che concorrono complessivamente all'ordine globale e chi pensa che sta perdendo terreno allora ha alzato il livello dello scontro e lo ha anche ideologizzato e politicizzato con questo tema della sfida sistemica per dire all'opinione pubblica del proprio paese guardate che qui è in gioco la nostra democrazia il nostro modello, il nostro sistema contro il modello avverso che ci minaccia e chiudiamo con questa infausta citazione di Borrell che appunto viene a dirci che l'Europa è il giardino assediato dalla giungla cioè l'occidente è il giardino e fuori da questo giardino c'è la giungla pericolosa quindi è proprio questo utilizzo un po' delle categorie come dire del colonialismo che viene utilizzato per raccontarci della sfida sistemica Sì è un po' un proseguimento dello scontro di civiltà o anche della guerra fredda però insomma la guerra fredda si sviluppava questo scontro in maniera meno razzista tra l'altro integro quello che hai detto tu io penso che l'occidente non facciamo che leggere dichiarazioni di politici occidentali che parlo di multipolarismo però è sempre un multipolarismo occidentale ovvero un ordine nazionale di sicurezza che fa capo a diversi paesi che cooperano fra di loro ma sono guidati dagli Stati Uniti insomma basta andare a leggere le dichiarazioni di Soltenberg e di Biden è un leitmotiv la Russia e la Cina sono una minaccia per l'ordine di sicurezza nazionale a guida degli Stati Uniti traducendo questo insomma con un termine loro quello che loro chiamano la democrazia liberale venendo invece alla questione di Taiwan stiamo vedendo insomma che ci sono delle dinamiche molto inquietanti a Taiwan che purtroppo hanno diverse similitudini con quello che è successo in Europa con la crisi in Ucraina quali sono secondo te le analogie, i punti in comune gli eventi che si stanno ripetendo a Taiwan? Sì, ma ovviamente rispetto alla situazione in Ucraina ci sono delle differenze sostanziali questo lo mettiamo in premessa perché mentre in un caso, cioè il caso Taiwan-Cina parliamo dentro un quadro di legalità internazionale basato sul principio dell'unica sola Cina quindi c'è un problema di Taiwan legato alle ragioni storiche che conosciamo dopo il 49 eccetera eccetera ma non è messa in discussione il fatto che è parte integrante della Repubblica Popolare Cinese che è riconosciuta la Repubblica Popolare Cinese come unico rappresentante di tutto il territorio e di tutti i cittadini cinesi ovviamente Russia e Ucraina diciamo questo aspetto è molto diverso gli elementi di familiarità che inquietano invece riguardano proprio gli aspetti militari cioè è abbastanza palese non solo per chi si informa per chi segue questo canale o altri ma oramai anche da un punto di vista mainstream è abbastanza palese che alla crisi di febbraio sia arrivati dopo un lungo periodo in cui la Nato e l'Occidente hanno giocato un ruolo in primo piano a partire dall'addestramento e dal creare come dire le condizioni che poi hanno portato al deterioramento dei rapporti all'ingresso della Russia in guerra eccetera questo lo ha detto la Merkel quando diceva in qualche modo che sostanzialmente con gli accordi di Minsk si è solo preso del tempo che serviva all'esercito ucraino di organizzarsi e lo ha detto anche Stoltenberg e altri militari americani quando hanno detto noi siamo lì da anni che stiamo lavorando e addestrando ecco questo aspetto è assolutamente come dire un parallelo negativo con la vicenda ucraina e scusate con la vicenda di Taiwan perché intanto storicamente c'è questo precedente del rapporto militare tra Taiwan e gli Stati Uniti anzi Taiwan ha potuto in tutti questi anni vivere questa condizione di eccezionalità grazie alla copertura fornita dagli Stati Uniti ma negli ultimi anni e negli ultimi mesi poi in maniera conclamata con i viaggi di Nancy Pelosi o altro senza che sia formalmente ci sia un cambiamento nei rapporti bilaterali tra Cina e Stati Uniti senza che ci sia questo cambiamento sostanziale nei fatti gli Stati Uniti stanno disconoscendo il principio dell'unica sola Cina e quindi stanno creando le basi per fomentare come dire movimenti secessionisti a Taiwan quindi questa ingerenza sia sul piano militare che sul piano politico per fornire diciamo così copertura ingerendo negli affari interni di altri paesi ecco questo è il parallelismo abbastanza inquietante che si nota e così come l'Ucraina è diventato diciamo così come si usa dire la guerra proxy cioè è diventato il terreno in cui la Nato si sta nei fatti scontrando con la federazione russa così lo scenario horror è quello di Taiwan come terreno per lo scontro tra la Cina e gli Stati Uniti perché insomma è abbastanza evidente ora io non sono un esperto di questioni militari però è abbastanza evidente che insomma non può esserci un conflitto diretto e un attacco diretto alla Repubblica Popolare che avrebbe tutta la forza per potersi per potersi difendere un attacco del genere un tentativo di invasione questo tipo insomma sarebbe assolutamente perdente però invece appunto giocare sul secessionismo e utilizzare Taiwan come terreno appunto di scontro ecco questo è l'aspetto inquietante e pericoloso che un po' lega le due vicende e poiché vediamo che cosa sta accadendo in Ucraina e che cosa è accaduto in questi anni insomma abbiamo da temere se questo diciamo così se questo scenario dovesse andare avanti anche sul versante dell'Asia Pacifica e di Taiwan sì se mi consenti come diceva Berlusconi mi consenta mi consenta mi consenta leggerei qui un articolo indicativo sul Financial Times di qualche giorno fa in cui viene esplicitato questo rapporto fra l'Ucraina e Taiwan un'intervista rilasciata dal tenente generale James Birman al Financial Times l'ufficiale ha detto perché abbiamo raggiunto il livello di successo che abbiamo ottenuto in Ucraina gran parte di ciò è dovuto al fatto che dopo l'aggressione russa nel 2014 e nel 2015 ci siamo preparati seriamente per il conflitto futuro addestramento per gli ucraini preposizionamento dei rifornimenti identificazioni dei siti da cui avremmo potuto operare supporto sostenere le operazioni noi chiamiamo quell'ambientazione il teatro e stiamo ambientando il teatro in Giappone nelle Filippine e in altre località chiaramente si sta riferendo ad un possibile scontro un possibile scontro con la Cina su Taiwan e quindi questo mi porta alla domanda successiva qual è la situazione nell'area perché insomma qua si parla direttamente intanto sappiamo che gli Stati Uniti e credo anche altri paesi stanno iniziando a fornire assistenza militare a Taiwan esattamente come è avvenuto per l'Ucraina e stanno anche iniziando ad addestrare anzi già li addestrano da un bel po' tu dicevi che anche in Italia si sono addestrati i militari taiwanesi pur non essendo in alcun modo nella Nato quindi per quanto invece riguarda gli altri paesi quindi tra il Giappone l'Australia le Filippine ma soprattutto l'India qual è la situazione che si sta delineando nella regione? Allora ovviamente la situazione è sempre molto complessa perché ci sono diciamo movimenti che vanno in direzioni diverse allora intanto un primo diciamo movimento che è quello molto chiaro da tempo evidente cioè gli Stati Uniti cercano di coinvolgere tutti i paesi che per un motivo o per l'altro possono avere come dire così degli elementi di attrito o semplicemente una competizione con la Repubblica Popolare Cinese e cercare di costruire quindi un'alleanza di paesi della regione che fanno blocco contro la Cina e contro l'ascesa della Cina quindi questa è una mossa che da tanto tempo oramai è evidente e in alcuni di questi paesi diciamo si è arrivati ad un livello militare molto avanzato citavi il caso del Giappone il caso del Giappone è quello più evidente cioè da un lato il Giappone ha rinnovato degli accordi militari con gli Stati Uniti accordi militari che ricordano quasi l'articolo 5 della Nato esatto della serie se qualcuno come dire interviene c'è il mutuo soccorso e il mutuo aiuto e questo va bene diciamo è un rapporto bilaterale però soprattutto con il Giappone gli Stati Uniti stanno cercando di come dire lavorare su due direzioni intanto interferendo nel dibattito interno perché da tanto tempo il Giappone ha una discussione interna difficile sul cambiamento della propria costituzione ci ricordiamo il Giappone sconfitto dalla guerra sostanzialmente ha una costituzione viene chiamata una costituzione pacifista cioè l'esercito giapponese è un esercito puramente di autodifesa non è un esercito con capacità di proiezione di attacco all'estero molto molto grande c'è una discussione interna per cambiare la costituzione quindi per militarizzare ancora di più l'esercito e gli Stati Uniti stanno ovviamente cercando di lavorare in quella direzione per favorire questo questo cambiamento e verso l'esterno cioè coinvolgere sempre più il Giappone appunto in una santa alleanza contro la Cina e altri paesi come l'India è toccato appunto un paese nevralgico in parte sono anch'essi coinvolti in manovre o in alleanze di questo tipo perché una delle alleanze è appunto quella del Quad cioè questo accordo tra quattro paesi che riguarda Stati Uniti India Giappone e Australia che è formalmente come dire nato già dal 2007 eccetera in funzione anticinese però l'India è un paese particolare un paese grande importante che sviluppa una sua politica dove certo come dire altre potenze mondiali cercano di avere un'influenza ma che cerca di costruire una sua proiezione all'estero quindi da un lato c'ha questo rapporto con gli Stati Uniti che è un rapporto storico che insomma tanta parte dell'elite indiana è cresciuta ha studiato negli Stati Uniti prima di tornare appunto in patria ma dall'altro lato mantiene una sua linea di diciamo di autonomia e di indipendenza per cui mantiene i rapporti con la Russia quando gli è stato chiesto di interrompere i rapporti con la federazione russa di non acquistare più gas e petrolio come ha fatto appunto l'Europa l'India praticamente li ha mandati a quel paese eccetera e dall'altro lato cerca di ergersi a paese diciamo così che dà voce al sud globale cioè tutti quei paesi che sono ancora in un grado di sviluppo se vogliamo inferiore rispetto alla Cina che oramai su alcuni settori ha raggiunto ovviamente un livello di sviluppo molto molto avanzato e paragonabile in alcuni settori addirittura superiore all'occidente allora tutti quegli altri paesi in via di sviluppo l'India si sta diciamo così posizionando come in qualche modo l'organizzatore di questo sud globale e questo è ovviamente una mossa molto interessante molto importante ci ricorda in qualche modo la politica dei paesi non allineati l'India l'India di Nero in qualche modo quindi una stagione importante nella quale ovviamente l'India non è che diciamo si spende dentro all'epoca nella divisione bipolare non si spendeva per uno dei due campi ma che ha favorito una terza via che però ha permesso ai popoli di portare avanti battaglie come l'anticolonialismo l'antimperialismo quindi questa dimensione dell'India è molto interessante e quindi le due tendenze quasi non concilianti da un lato partecipare a una alleanza semimilitare dall'altro lato avere questo atteggiamento ci sono non perché è schizofrenica ma perché riflette un tanto delle tendenze internazionali ma dall'altro lato anche degli equilibri all'interno della sua classe dirigente e dei vari indirizzi dietro cui questa classe dirigente dentro cui insomma è divisa io ti ringrazio perché hai anche anticipato la domanda di una iscritta che ti avrei fatto al canale che ti avrei di Francesca che ti avrei posto dopo però insomma ne approfitto anche per porti la domanda di un altro iscritto al canale darkmind che è qua in ascolto lo salutiamo è una domanda anche abbastanza complessa potrebbe essere possibile che l'America stia facendo leva sul conflitto a Taiwan per abbandonare l'Ucraina magari hanno già un negoziato con la Cina su Taiwan e nel 2023 sarà tutto finito per me la Nato non va contro la Russia e Cina Unita che succederà se si ripete lo scenario ucraina in quel di Taiwan è una domanda che precede anche la mia domanda ti unisci alla mia ultima domanda sulle prospettive cosa succederà è inevitabile questa guerra o ancora peggio potrebbe esserci un escalation nell'attuale guerra che potrebbe arrivare ad infiammare l'Asia l'Asia Pacifico come come vedi quale idea ti sei fatto allora ovviamente non diciamo non mi metto a fare previsioni a parte perché non ho le informazioni essenziali e poi sarebbe come fare una scommessa allora intanto sulla domanda della diciamo di Dark Mind se non ricordo male allora sì io spero che l'atteggiamento prevalente sia quello che dice lui cioè che a un certo punto non è che la Nato si mette contro contemporaneamente la Russia e la Cina insieme ma che appunto diciamo così prevalga prevalga un minimo di ragionevolezza intanto che si arrivi a una soluzione della guerra ucraina ma dall'altro lato che non ci sia una nuova escalation però viviamo in tempi nei quali non è assolutamente detto che le idee più razionali più logiche più più utili siano quelle che prevalgono perché abbiamo visto insomma basta guardare tutto il 2023 tutto quello che è successo ci parla di cose che sul piano razionale non avevano senso eppure invece si è giocata la carta dell'escalation quindi non è detto che non ci sia escluderei il ragionamento diciamo così della tattica simulata cioè se ho capito bene la domanda cioè fingere un innalzamento di toni in Ucraina come scusa per sganciarsi dalla vicenda ucraina questo tenderei a escluderlo sinceramente cioè temo veramente che ci sia ma del resto lo dicono avvertamente settori dell'occidente non solo degli Stati Uniti che invece sull'Ucraina scusate su Taiwan vogliono andare fino in fondo e andare fino in fondo significa arrivare a uno scontro e un conflitto perché significa mettere in discussione il primato il principio dell'unità territoriale della Repubblica Popolare Cinese e quindi questo temo quanto al tuo pezzo di domanda su quello che può essere sullo scenario anche qui io tendo purtroppo a essere un po' pessimista cioè io tendo a come dire a io temo che anche sul fronte della guerra ucraina ci sia un tentativo di innalzare più di quanto già è stato fatto il livello dello scontro con la federazione russa di tentare di arrivare a una sorta di redderazione temo che ci sia un pezzo della classe dirigenti occidentali che credono che dentro una guerra prolungata ci possa essere una crisi verticale nella federazione russa e quindi magari per loro una frantumazione e quindi dentro l'idea di potersi accaparrare risorse o vaste aree nuove di mercato da poter conquistare di spingere su questo elemento della guerra non mi spiego altrimenti alcune delle posizioni più oltransiste che vediamo in occidente per cui non è difficile immaginare diciamo così che questa frazione partito della guerra così come gioca sul tavolo ucraino giochi anche sul tavolo di Taiwan spero di sbagliarmi spero che ci sia un concorso soprattutto di due fattori da un lato una razionalità e anche un interesse economico cioè se l'Europa già adesso si sta condannando a una condizione di industrializzazione se decide contemporaneamente anche di chiudere rapporti con la Cina cioè diciamo l'Europa va in miseria ma miseria peggio di quella che stiamo vivendo adesso miseria peggio del crack che c'è stato in Argentina così anni scorsi quindi spero che quindi tutto questo faccia risvegliare una coscienza una lotta una ripresa di un movimento contro la guerra e che quindi diciamo la combinazione di queste due forze da un lato un movimento contro la guerra consapevole che fa appunto vivere e vincere le ragioni appunto contro la guerra e contro l'imperialismo da un lato e dall'altro lato anche gli interessi economici di un pezzo di borghesia che non assolutamente non vuole legare il proprio destino allo scontro delle civiltà e lo scontro sistemico possano portare a un cambio nella politica europea occidentale ovviamente anche del nostro paese e anche un po' il compito che abbiamo quello di provare a contribuire a far vivere come si direbbe le ragioni della pace contro questo scenario di guerra io sono molto più pessimista di te perché non mi pare che almeno che in Italia purtroppo ci siano dei presupposti per costruire un movimento di pace credibile l'abbiamo visto anche perché se si rifiuta i cosiddetti pacifisti si rifiutano sono rifiutati per otto anni per nove anni di vedere un conflitto in Donbass non possono avere una postura da pacifisti credibile l'abbiamo visto insomma non sono riusciti a presentarsi in piazza con delle richieste effettive che potessero fare pressione ai governi in in alcun modo e non c'è nessuna forza antisistemica che riesca a farlo quindi spero in altri stati probabilmente poi abbiamo visto anche che il confindustria ha un fortissimo interesse almeno per quanto riguarda la guerra in Ucraina ad andare fino in fondo quindi se lo fa con la Russia calpestando gli interessi degli industrie dei stessi consociati con i piccoli industriali figuriamoci se non lo farà anche con con la Cina però anche questo devono fare i conti poi fino in fondo perché da un lato c'è si vogliono pappare questa fetta diciamo così di business legato alla ricostruzione dell'Ucraina di un pezzo dell'Ucraina questa cosa qua ok sicuramente sono tanti soldi commesse e soldi per una serie di aziende ma se nel contempo con la crisi che continua e con l'impossibilità per l'Europa di approvvigionarsi di gas di materie prime e di diciamo così di risorse energetiche a un prezzo che poi renda la diciamo la produzione europea compatibile con i prezzi di mercato se tutto questo non avviene sì ci saranno alcuni che faranno affari con la ricostruzione in diciamo così in Ucraina ma poi avranno meno associati l'anno 21 perché molte aziende chiuderanno magari neanche gli interessa questo non lo sappiamo diciamo che io sono più speranzosa verso i movimenti che magari si stanno radicando in altri paesi come la Germania e la Francia e probabilmente gli imprenditori avranno più peso vediamo che l'Italia in questo momento si sta comportando come una vera e propria colonia degli Stati Uniti quindi insomma non credo che ci siano molte speranze purtroppo comunque chiudiamo con questa mia ondata di di ottimismo aspetta aspetta perché c'è una domanda di Federico Drago aspetta dal punto vediamo se riusciamo a risollevare un po' l'umore dal punto di vista legale però la questione di Taiwan è molto diversa come forse avete già detto nel senso come si giustifica con i paesi non allineati un intervento militare straniero a guida USA in quello che è un paese non riconosciuto da nessuno a livello di Nazioni Unite insomma è una domanda sensatissima perché non esiste nessun tipo di legittimità internazionale anche se gli Stati Uniti hanno sempre dimostrato di non infatti adesso stanno cercando stanno cercando di costruirla questa legittimità costruendo una narrativa diversa cioè Federico ha ragione a sottolineare questo aspetto è infatti proprio la differenza sostanziale con il caso ucraino però non è un caso e lui lo sa bene perché è uno che è molto preparato parla cinese molto bravo ma quello che sta succedendo qual è? che stanno costruendo una nuova retorica su Taiwan cioè Taiwan non è più quel paese cioè la Repubblica di Cina che ambisce a diventare nuovamente la rappresentante di tutto il territorio cinese come era noi ricordiamoci quando era insomma quando i comunisti vincono in realtà per lungo tempo non possono siedere all'ONU perché all'ONU c'è nei fatti Taiwan come unica rappresentante di tutta la Cina quindi dicono questo aspetto oramai è finito quindi Taiwan non rappresenta più diciamo coloro che si considerano il governo legittimo ma c'è una nuova identità l'identità dei nuovi cittadini di Taiwan che è un'isola che è sempre stata indipendente quindi stanno cercando di costruire questo tipo di retorica ma diciamo ha ragione lui nel dire che non c'ha una base dal punto di vista del diritto internazionale sì anche se insomma come scrive lui stesso poi lascia che gli USA sono abituati a fare quello che vogliono certo il contesto da un punto di vista puramente diplomatico è diverso però insomma nonostante questo già abbiamo visto che ci sono degli da quando almeno da quando è andata la Pelosi il 4 agosto a Taiwan sono iniziati non so se c'erano anche da da prima gli invidi armi sì sì le armi ci sono sempre state dal 49 in poi praticamente Taiwan è come se nel 43 Mussolini anziché andare a fare o nel 44 nel 45 Mussolini vista che la guerra stava per finire se andava in Sardegna portava lì i soldi i suoi uomini più fidati eccetera si faceva difendere dalla Spagna franchista dal punto di vista militare e poi dicevano in Sardegna c'è la diciamo così il regno d'Italia e prima o poi ci riprenderemo tutto e praticamente questa è la dinamica che c'è che c'è stata quindi sì grazie per la spiegazione penso che sia chiarissimo con questo con questo esempio va bene Francesco io ti ti ringrazio vedo che non ci sono più domande quindi andiamo andiamo in chiusura spero di averti ospite per altri approfondimenti insomma cercheremo in qualche modo di informare anche su questo importantissimo aspetto che è la situazione cinese è nella la sfida insomma nella minaccia della Nato nell'Asia Pacifico grazie a tutti per aver seguito questo approfondimento grazie grazie a te Francesco e ci vediamo allora alla prossima alla prossima puntata buona serata a tutti ciao ciao ciao